Butto un ulteriore sasso nello stagno che può essere letto più come stimolo di un ragionamento di carattere sociale che non squisitamente economico, però lo sviluppo economico nasce anche da quelle che sono le migliori energie della città, le energie non è che nascono per terra, le pianti e poi vengono su, sono le intelligenze, per cui è chiaro, Gubbio è una città che se non ha la vocazione all'emigrazione che era negli anni 50, certamente spesso vede andarsene tanti giovani perché ovviamente è difficile che magari trovino o sbocchi o motivo di gratificazione professionale in loco. Come fare a frenare, diciamo, comunque a drenare questo trend? Cioè è possibile far sì che anche per uno sviluppo economico della città le intelligenze migliori possano in qualche modo essere, come dire, non dispersi o quantomeno utilizzate anche magari dall'esterno per idee, per progetti, per sviluppo in senso generale. Noi quando mandiamo gli spot della nostra città, i ceri, i sbaglieratori, la balestra, le ceri, con la colonna sonora. Noi abbiamo una realtà giovanile problematica, realmente problematica. Chi vive nelle nostre frazioni, ma anche nel nostro centro storico, chi vive dentro le famiglie, questa cosa la sa. Creare le condizioni perché i giovani possano ritornare a sognare. Non solo come studiare, ma sognare proprio, riuscire a fare. Quel Small Business Act che citavo all'inizio, che è una direttiva europea recepita, lo ripeto, dallo Stato italiano, è aggiornata il 28 febbraio scorso con un commissario nominato. prevede, per esempio, la valorizzazione, la facilitazione di imprese giovanili, la messa a disposizione di formazioni in campo e del credito e del management e dell'informatizzazione rispetto a varie categorie. Prevede, per esempio, una creazione di fondi per finanziamenti da 75 mila a un milione, sembrano tanti, però c'è gente che non è in questa fascia, ma c'è anche un finanziamento minore di 75 mila euro. Ci sono una serie di strumenti, basterebbe che il comune recepisse questo tipo di direttiva e già questa cosa rappresenta una via maestra. Sarebbe secondo me interessante, questa è una cosa che diamo a chiunque vale la pena. L'altra cosa del giovane è che i nostri giovani, per come siamo noi, si mimetizzano, fanno finta di non esserci. Noi occupiamo tanti posti che in realtà sono loro. Di noi il più giovane è Guerrini, immagino, cioè 31 anni. Un po' mi mette pensiero perché parla come qualcun altro che ce n'ha più, però va bene così. Perché poi essere giovani non significa solo essere nati dopo, ma avere anche la possibilità di svilupparsi, di crescere, di sbagliare, ma anche di essere accolti, di essere incoraggiati, di essere aiutati. Prima uno entra e fa il bracciere e poi sotto il cero. In questi tempi si prende il cero fino a 70 anni. C'è qualcosa che non va.